Siamo all'evento Conosciamo Meglio dove abitiamo, una passeggiata di 14 tappe nel quartiere di Precotto. In questo evento della Civil Week parliamo di cultura, di storia e anche di socialità. Ci troviamo a Precotto, di fronte, anzi alle mie spalle potete vedere Villa Radeschi, che è la casa dello scultore Francesco Barzaghi e siamo insieme a Ferdinando Scala, che è un membro del Comitato di Quartiere Precotto. Di che cosa si occupa il vostro evento oggi? Il nostro evento vuole essere una passeggiata conoscitiva delle antichità del quartiere. Un quartiere che è in continua trasformazione, però a noi piace far vedere ai milanesi quello che di bello esisteva un tempo. Quindi l'obiettivo del vostro evento qual è? È culturale e anche pedagogico. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? No, anche altri anni l'abbiamo fatto. Che cosa di utile fate per Milano? Perché partecipate alla Civil Week? Beh, partecipiamo alla Civil Week per questo motivo, perché ci piace allargare la cultura e la conoscenza della propria città. Come Comitato di Quartiere invece siamo attivi sul territorio per collaborare con l'amministrazione comunale per migliorare i vari punti del territorio, la viabilità, gli edifici scolastici, eccetera, eccetera. Secondo voi, secondo il vostro comitato, che cosa si può fare per ampliare ancora di più il vostro evento, per far conoscere ancora di più questi angoli culturali di Milano? Beh, noi ci siamo dati un programma che è quello di far vedere almeno una volta al mese la chiesa di Santa Maria Maddalena che si trova dietro questo viale e che raggiungeremo sabato mattina con la passeggiata di Civil Week dedicata a Precotto. Ok, avete altri luoghi che esplorate, che fate vedere con la cultura o soltanto questo quartiere che comunque è molto lunga la passeggiata di questa mattina? Sì, i nostri obiettivi sono tre. Oggi facciamo Villa San Giovanni, domani faremo Crescenzago, sabato facciamo Precotto. Va bene? È un bellissimo evento perché, come si può sentire, forse dall'accento, io non sono di Milano e quindi non sono a conoscenza di questi luoghi perché chi è di fuori non ne ha conoscenze, quindi sono veramente felice che potete, date la possibilità di conoscere questi luoghi, questi angoli culturali alle persone di Milano e anche non. Va bene, la ringrazio. La ringrazio, gentilissimo, buon proseguimento. Grazie, bravo, bravo e complimenti per la vostra attività. Grazie, noi ci vediamo al prossimo evento, continuate a seguirci.